Calamità naturali, crisi internazionali, invasioni non autorizzate dello spazio aereo. Sono alcuni degli scenari simulati nell'esercitazione Virtual Flag 2013 dell'aeronautica militare svoltasi dal 2 al 13 dicembre 2013 al Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico in provincia di Ferrara, fulcro della Difesa Aerea Nazionale. Tra gli obiettivi addestrarsi a pianificare e condurre nel modo più adeguato le operazioni aeree militari durante una crisi. Il colonnello Roberto Rossi, responsabile dell'esercitazione. La Virtual Flag è un'esercitazione virtuale, quindi simulata, fatta con una rete di computer e questo ci consente di, da un lato, contenere le spese, che in un periodo come questo per il nostro paese è fondamentale, dall'altro di riprodurre in modo molto realistico tutte le funzioni di processi di un centro di comando e controllo per le operazioni aeree. Nessun aereo è realmente in volo, insomma, ma tutto accuratamente è riprodotto al computer come se fosse vero. Simulazioni come questa si sono rese molto utili in passato, ad esempio durante il G8 del 2009, trasferito nel giro di pochi giorni dalla Sardegna all'Abruzzo dopo il terremoto. Nel sistema che abbiamo qui a disposizione è stato simulato lo schieramento dei mezzi per realizzare la bolla di protezione della Difesa Aerea, dove mettere i radar, dove mettere gli aerei in volo. Questo è stato simulato qui perché c'è stato poco tempo tra il trasferimento della Maddalena all'Aquila. Nell'ultima esercitazione sono stati sperimentati anche la collaborazione con i controllori di volo dell'ENAV per impattare il meno possibile sul traffico aereo civile e uno scenario di cosiddetto Space Weather, meteorologia spaziale, per affronteggiare eventi cosmici come radiazioni elettromagnetiche, nubi di plasma e materia solare che hanno impatti diretti sui radar, sugli aerei e sulle navette spaziali.